Le mani della nostra terra! Giù le mani della nostra terra! Per poter gioia prima, perché è la strassione della Talus, e quindi alla grande voragine. Da qui? Da qui? Da qui? Da qui? Da qui? No dà, no dà, no dà, no dà! Questo vero porta a morte, porta a mafia, non si fa! Dota! 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 Adesso, facciamo il mare! Voi! Mettila di filmare, vai! Mettila di filmare! Mettila di filmare! Avanti, con la bianca! Vieni, vieni! Altri, invece! Di là sulla sinistra! Altra, dentro l'agesione! Le blocchere, giù! Vieni... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.